Questo emendamento, che è stato un emendamento presentato dal Partito Democratico, con primo fermatario l'onorevole Ribaudo, che è un siciliano eletto in Sicilia 1, assieme anche ad altri, perché poi siamo intervenuti su molte altre parti dell'articolo 3, c'è stato sollecitato e segnalato come problema, come esigenza, da tanti comuni, compreso quello di Avola e in questo caso particolare dal Partito Democratico di Avola. È probabile che il piano di rientro che era stato portato da Avola è stato restinto perché era troppo orbido, oggi come di Avola si vorrà sfruttarla un'altra opportunità e mi sembra importante che il Partito Democratico, pur essendo a Avola all'opposizione, abbia voluto costruire le condizioni per quest'altra opportunità da parte del PD che a Avola e all'opposizione è un atteggiamento di grande responsabilità.